Sì, qua, sono, sto salendo sulla Ghil d'Entrev, una sfondata pazzesca, è tutta così, tutta le ginocchia, una cosa massacrante, con le punte bronner e la riva della Skyway, non mi manca molto a dire il vero, ma si sfonda fino alle ginocchia e sto sfondando da ore, è lì, è quella, quella crestina lì, quella là doveva essere la tour ronde, adesso provo con calma a farla, una sfonda, sfonda polmoni e sfonda tutto, c'è un botto di neve fresca cacchio, è quello il problema in questo momento, si sfonda esageratamente, meno male che c'è il sole, va, la vetta è lì, io sono qua, neanche esageratamente esausto, eh, devo dire, così perché sono qua sotto, a ritorno ci sarà da abbenare, vai dai, puntiamo la vetta, eccoci sulla Ghil d'Entrev, qua c'è tutta la parte del Monte Bianco e qua, ecco, qua qua c'è il Monte Bianco, eccolo lì, la tour ronde, quella là dietro, quella davanti, qua tutto il ghiacciaio, la del Noir, e qua tutta la cresta, là sotto la Valveni, e là tutto il panorama, ecco qua, e là c'è Courmayeur, sono partito da là. Come dicevo, sono partito da Courmayeur, tutto in tirata unica, alpinisticamente e mentalmente e a livello di fatica, una cosa pazzesca, io non lo so che cosa mi è venuto in mente, l'avevo studiata da lontano, col binocolo da giorni, mi sono creato una via da solo e me la sono fatta. E verrà buio veramente presto, devo scendere al volo, perché è stra pieno di punti delicati, compresi i crepaci del ghiacciaio, quelli del ghiacciaio del Tula, questa è tutta la via di salita, là c'è il pavillon e là c'è Courmayeur, tutto devo far fila a piedi in paese mostruoso. Cervini e Monterosa, ecco questa è tutta la via che mi devo fare, allucinante, ripidissima, infatti qua ci sono dei punti poi che sono proprio a salto, poi devo raggiungere tutto il ghiacciaio, devo fare tutto quel ghiacciaio crepacciato, poi devo prendere quella morena, salire in cima, che è una roba ripidissima, andare giù e poi è tutto abbastanza semplice fino al pavillon. Ma questo pezzo qua è allucinante. Ma doi, devo calarmi giù di lì. È ripido, però c'è tanta neve fresca e potrebbe aiutare, poi ogni tanto ci sono dei misti così, insomma si sfonda fino alle anche, una roba micidiale, però è solo il primo pezzo difficile, cioè l'alpinistica finale, il resto poi, insomma da ghiacciaio del Touring poi ovviamente non è che ci siano difficoltà tecniche, ecco, solo d'itinerario. Ecco qua, questi ripidacci tremendi, sono veramente ripidi. Prima ero passato di lì, adesso invece preferisco fare la conca nevosa, ribeccare la mia traccia e più scendo e più dovrebbe semplificare. sta salendo un po' di nebbia, insomma è meglio che... Oh cazzo, sì, è meglio che mi sbrighi. Ecco, siamo in piena ripidaia. Tenevo un white out, ma sembra che esistiano un po' di radanne, insomma, se non volete finire la via è ancora lunghissima, ma sto scendendo. E discesa o lì rientro. Ragazzi, ecco l'ho andata, ho fatto la cresta di là e poi mi ho fatto un po' mistroccia così, a ritorno ho fatto un canaletto di qua per fare neve, tanto sono in discesa e forse è anche meglio. Quello che non si evince, ecco adesso vado giù di qua, mi faccio tutto il ripidone e rivecco il ghiacciaio. Quello che non si evince è che sto congelando, cioè i guanti che sono duri come il marmo, e continuo ad avere principi di congelamento, devo continuare a fermarmi, togliere le mani, metterle in tasca, ritirare fuori, sfregare. E sto congelando perché sono sempre dentro la neve, dalle ginocchia in giù e le mani sono sempre dentro quelle due picche. Ok, che congelamento. E prima ho dovuto togliere gli scarponi e fregare i piedi in vetta perché principio di congelamento ai piedi. Bel panorama sul dente. Gran Jorasses, Cervino Monterosa, là c'è il grampa, insomma io però adesso devo concentrarmi, scendere giù di qua. Che è ancora lunghissimo. Ora mi sono ricongiunto qua la mia traccia, qua c'è tutto il pendio, eccolo ancora abbastanza bello ripido. Aggiungerò quella cresta, tutto il pendio là all'ombra, ghiacciaio e giù là c'è il pavion. E insomma è là il paese, lunga lunga lunga. C'ho le mani gelate. Al sole si sta bene ma stando pucciati nella neve si gela e vabbè, si sopporta come tutto. Ecco un po' caracollando si va giù, si vede la mia traccia, fa così. Là c'è il ponte sulla terminale, si passa, c'è il ghiacciaio giù da quelle parti e poi morena, su di là, e poi di là si va il pavion. Qui stanno arrivando ste nuvole, devo fare in fretta, e in più qua c'è l'ombra. E vabbè, si scava in trincea, in salita, in discesa, neve fondissima, polverosissima. Qui sono appena all'altezza della Skyway direi. Vabbè, me la caracollo giù il volo e vedo di raggiungere al più presto il sole, perché qua si gela. Allora, pian pianino si scende, eh. Là si vede la scala del Tula, eccola là. Quelli che scendono d'inverno dalla Skyway, fanno tutto il giro, credo che sia in disuso. È là. Con una scalinata si raggiunge il ghiacciaio, poi si scende con gli sci e si va il pavion. Cioè, guardate come si sfonda. Ma guardate che trincea. Cioè, io a salire, a scendere, a batter traccia, a piedi da Courmayeur e a sfondare come un dannato, a salire, a scendere. Cioè, in giornata. Tutto a battere, tutta una via così fatta da me. Sicuramente l'aveva fatta qualcun altro, per carità. Non oso. Però da solo a dicembre, con tutta sta neve qua a sfondare, tutto, tutto, tutto. Io ho... Però, cazzo, è impegnativo, ecco. Vorrei sottolineare questo. Cioè, questa è una trincera, eh. Ora qua siamo all'altezza delle terminali. Io riseguo la mia traccia, stando attento. Qui sono tutte le terminali, perché avevo tracciato sulla dorsale. Quindi con compattezza. Con grossi accumuli e con non spaccate. E quindi me la seguo con calma sulla dorsale. E poi vado a beccare le seraccate là, là sotto. Là ci sono delle seraccate bellissime. Si passa sotto, un po' la svelta. E via. Là c'è il Mondella Sax. E qua c'è... Ecco la Skyway che va su e giù. Si vede che sta lavorando, speriamo. Inveni, nella prossima apertura. Questo è il flambeau. E quello è la Gil de Tula. Ecco qua la Terminal Shock. Io sono sulla dorsale. Lì continua. E là si vede tutta la spaccata. Anche là in fondo. Io ho passato tutto il pezzo lì. Quindi dovrei essere più tranquillo ormai. Là tutta la via di salita. Eccoci nel bel mezzo del ghiacciaio del Tula. Là c'è la Skyway ferma. Qui c'è questa che assomiglia un po' a... A la Gil Noir. Ma ovviamente non lo è. Eccola, è impressionante vedere dalle seraccate che si staccano dal ghiacciaio che lì c'è il vuoto. Fa il salto e si spacca. Io devo raggiungere quella morena. Passargli dall'altra parte. E poi da lì è tutto facile. Là c'è il pavillon. Eccolo là. E poi dal pavillon c'è tutto il sentiero che porta giù. Anche se viene buio la frontale. Per cui l'importante è levarsi da questa situa. Io ora vengo da Stagobba. E là ci sono le seraccate. Adesso prendiamo a vedere quelle là che si staccano impressionanti. Quelle lì. Ioì, che roba. mamma mia, sono lì in piedi per miracolo. Porca miseria. Ecco le icefall del Tula. Bestiali. Impressionanti. Adesso io ci devo passare sotto. Devo tagliare lì. Raggiungere la solita morena. ma là dietro si intravede il pavillon. E poi giù, giù, giù. Insomma. È ancora lunga ma comincio ad essere a buon punto. Adesso ho fatto tutte quelle balze là in mezzo. Ripide, nevose. Una menata soprattutto in salita. E là si vede la cima che ho fatto. Eccola là. Ormai all'ombra. Boh. Puntiamo diretti la morena e andiamo a beccare poi la morena e il pavillon. Eccoci qua. Questa è proprio sotto. Là si vede appunto il banner all'arrivo della Skyway. Io sono sotto l'icefall del ghiacciaio del Tula. Qua si vede il panorama. Qua c'è il resto del ghiacciaio. Qua dei bei buchi si vedono. Là, là. Eccetera. Là si vede il comprensorio da sci. Purtroppo chiuso. Là è il ruto. Gran paradiso e grivola. Ah, micidiale questa salita. Oh, comunque sono arrivato. Qua c'è il masso che è più o meno in cima. Là si vede il pavillon adesso. Giù dritto al pavillon. Con il sole che sta per salutarci lascio queste zone selvagge e remote per inoltrarmi seguendo la mia traccia in queste zone più antropizzate decisamente. Ecco qua. Qua c'è il pavillon. Io ora da qualche parte prendo il sentiero che porta giù a Courmayeur faccio il lato Valvenie perché c'è anche il lato Valferré ma io faccio il lato Valvenie oggi. Qui si vede un pezzo della lì di salita. La cima di oggi. Eccola là. E' quella là. Track. Qui sono proprio sotto la Skyway e nel due e mezzo qui del Monte Bianco. Allora c'è la Valferré. Boh. C'è ancora un bel pezzettone però direi che la parte incasinata è andata. Sta quasi venendo buio ma secondo me ce la faccio. Anche se non ce la faccio la frontalina poi da qua in poi tutto il sentiero e da giù di qua è pulito. Va bene. Fatta questa direi che posso aiutermi soddisfatto. Sì. Saluto. Ciao. Ciao. Ciao.